Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio della FTB Unstable Oggi, oddio, ho premuto F4, si è attivata questa cosa molto strana Allora, oggi, prima cosa, prima cosa, a inizio video, subito Vi dico che tra poco, quindi poco dopo che vedrete questo video Andrò in live su Twitch con CS, ovviamente per fare il subplay Subscriber play e follower play di Twitch Quindi, se volete venire a giocare con noi, venite pure, in descrizione trovate il link di Twitch E poi, vi dico un'altra cosa Mi sono arrivati miliardi di messaggi dicendomi che quello era petrolio Il mio dubbio più grande Che, cioè, ho già visto il petrolio in altri pacchetti, ok? No, non devo droppare le mele Ho già visto il petrolio in altri pacchetti Però, ovviamente, no, non ovviamente, in realtà Quando c'ero salito sopra, mi ricordo che mi aveva dato tipo nausea Ma probabilmente era un altro tipo di blocco Inoltre, quando sono andato dentro, ho visto che faceva le bolle azzurre Quindi per quello ho pensato potesse essere acqua buggata Non per altri motivi Conosco il petrolio e in più altri mi hanno detto Che con la waila dovrebbe dirmi il tipo di blocco Che però non me lo dice, non mi dice che tipo di liquido è E nemmeno premendo uno o, vediamo, moduli Vediamo se mi dice se è possibile mettere anche quelli della Ender Tank No, General No, non mi fa vedere Cioè, non so come impostare anche quello per i liquidi Quindi non ho modo di poter vedere il liquido Cioè, di che liquido si tratta A meno che non sia in un tank, penso Ok, adesso andiamo avanti E inizio a dirvi le prime cose Che cercheremo di fare in questa serie Allora, non ci sono tantissime mod da poter utilizzare Come vi dicevo, perché essendo su 1.8.9 Le mod ancora non ci sono tutte E alcune sono buggate E fanno crashare tutto e altro Dobbiamo iniziare come prima cosa Come su tutte le serie Come su tutti i mondi di Minecraft Praticamente a scavare L'unica cosa, però, che non abbiamo ancora fatto È cercare di gestirci un po' di storage Anche se adesso non ne abbiamo tanto Intanto sta iniziando a venire notte Quindi appena possiamo Oh, andiamo subito a dormire E vi faccio vedere la prima mod Che io trovo veramente interessante Rispetto a altre che si trovano ultimamente Diciamo, tutte quelle che abbiamo usato di solito Per storeggiare tutte le cose che abbiamo avuto Quindi direi che la casa potremmo farla Visto che non ci metterò No, aspettate un secondo Visto che potrebbe essere che il mondo esploda Da un momento all'altro e tutto quanto Vorrei evitare di andare a costruire chissà che grandi cose O grandi strutture o altro Quindi preferirei tipo, ad esempio, farla all'interno di Della montagna o non lo so Più che altro perché Perché posso decorarla come voglio Posso, come si dice Fare una cosa che avevo già in mente Come vi dicevo Avevo intenzione di farlo per il pavimento In realtà Mi sa che mi converrebbe farlo per Il soffitto Adesso vi farò vedere perché In realtà non cambia più di tanto Però non è bellissimo Molti di voi hanno notato Che quando andiamo a mettere le cose Nella crafting table e altro Adesso sì Nella tinker Con la tinker nuova Si vedono Da fuori diciamo Quindi Se noi andiamo a mettere i blocchi Sui vari tavolini della tinker Tac Vedete che compare In più sono anche collegati Questa la nuova tinker Veramente è fantastica Secondo me Andiamo un attimo a mettere giù Queste cose che non ci servono Craftiamo una pala al volo Perché ci fa comodo Ok E oggi Andremo a vedere la prima mod Molto interessante Vi stavo dicendo Secondo me è veramente Una delle mod È appena È in beta Credo come mod Però Promette Promette bene Uno dei primi Cioè Una delle Dei primi obiettivi Che dobbiamo darci Invece È ottenere Un casino di ferro Per poter fare Ho un po' di carbone Novero Un po' di ferro Per poter fare Il Anzi Fatemi vedere una cosa Se io invece di andare Dentro la montagna Andassi in basso Potrei Potrei ad esempio Se io ad esempio Provassi a entrare qua Potrei Trovare del carbone Magari E in più Essendo già in basso Dovremmo Dovremmo trovare Solo Magari Invece che terra Dovremmo trovare Roccia Ok quindi andiamo più sotto Uh copper Credo Ma la wild Non funziona Ah l'avevo disattivata Ok Copper ore Vi sto dicendo Dovremmo trovare Il maggior numero Di Ferro possibile Per poter fare subito Il martello E Alcuni oggetti Della tinker Soprattutto Soprattutto All'acetta Della tinker Perché ci verrà Utile In una maniera Incredibile Avremo bisogno Per la mod Che vi farò vedere Tra poco Di una quantità Di legno Veramente Assurda Veramente assurda Perché Perché Ehm Richiede Diciamo Cose abbastanza Facili da trovare Intanto ho La luce al massimo Perché mi sembra di non vedere nulla Si brightness al massimo Ok quindi Userò il split Come al solito Per guardare Ehm Vorrei trovare almeno uno di carbone Tanto per Io non so se voi vedrete qualcosa Ma penso di si Perché se Se lo vedo io su il split Dovreste poterlo vedere Stavo dicendo Ehm Questa mod Richiede veramente Tanto 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 Legno Per iniziare Poi servirà tanto 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 ferro Però Vedremo più avanti Se riusciremo ad upgradearla O O altro Però è veramente Veramente Comoda E' una cosa Assurdamente Comoda Soprattutto per me Che sono un disordinato Patologico Ehm Più che altro Su minecraft In una maniera Incredibile Quindi Siccome non so Gestirmi le cose Buttare tutto dentro Con spazio Ad esempio E' veramente comodo Anche se Da quello che so Non c'è La possibilità di fare Spazio click Per svuotarsi L'inventario Non abbiamo trovato Non abbiamo trovato Neanche un pezzetto Di carbone Quindi direi di fare Una fornace Cucinare un po' Di carbonella In modo da poter Un po' Di Allora facciamo Una fornace Al volo Anzi ne facciamo Due In modo che Possiamo Facciamo cucinare Anche la carne Che abbiamo trovato La mille fornaci La mille fornaci Dove andate? Qua Ok In modo che possiamo Anche Allora Così Mettiamo Il legno Grezzo Ne facciamo Ok Vai Facciamo un po' Di carbonella Così possiamo Farci le torce Vediamo vai Perfetto Mettiti a cucinare Dammi un altro Almeno che mi faccio Un paio di torce Così non sono al buio Dai 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 Intanto metto anche A cucinare la Facciamo così Mettiamo a cucinare Anche la carne Così ce l'abbiamo Già pronta Andiamo a Craftare un po' Di torce Perfetto Così Ci siamo Dammi 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 carbonella Così facciamo Un paio di torce Perfetto Ce n'è ancora Dai aspettiamo L'ultimo Così siamo a posto Dai Perfetto Andiamo a mettere L'ultima torcia E poi ci pensiamo Inoltre Teoricamente Avendo la tinker Dovrei poter Posizionare Anzi ripariamoci Anche subito Il piccone Visto che si rompe In una maniera Incredibilmente facile Non posso ripararlo Così Interessante Come cosa Quindi dovrei Per forza Metterlo Sulla Toolstation Giusto Quindi Toolstation E ci mettiamo Il coso Esatto Posso ripararlo Tranquillamente Così Andiamo giù Posizioniamo Vediamo se funziona Ancora Sulla 1.8 Sì funziona Quindi possiamo Tranquillamente Posizionare Le torce Con il tasto destro Se abbiamo Un oggetto Della tinker Quindi Veramente comoda Adesso Allargo un attimo Qui E vediamo Di trovare Ok carbone Bastava fare Un blocco in più Avrei trovato Il carbone Ottimo Ok Quindi adesso Che abbiamo Il carbone Iniziamo ad avere Anche una zona Un po' più ampia Che cos'è Questa cosa Oddio ho trovato Una caverna Oddio ho trovato Una caverna Perché Perché Proprio qui Allora Vediamo un secondo Come si sviluppa Questa cosa Ok Se io vado Là sotto Sono morto Praticamente Che cos'è Quella cosa Per terra Ok Non voglio Saperlo subito Direi di Alzare un attimo Il soffitto qua Perché mi dà fastidio No 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 Ok Non devo alzare Il soffitto qua In questo modo Facciamo così Abbassiamo il pavimento Di qua Perfetto Oh ferro 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 Il ferro ci servirà Tantissimo Però non andrò A cucinarlo subito Perché Lo voglio Macinare Però in realtà Mi sa che per macinarlo Dovrò Cucinarlo lo stesso Adesso vediamo un attimo Iniziamo subito Ad allargare qui Lì ci faremo Una scala Per andare Lì sotto E iniziamo anche A portarci giù Un po' di roba Allora Rompiamo ancora Questo 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 Adesso dovrebbe essere Abbastanza alto No dovremmo alzare ancora Di un blocco Perché altrimenti Sbattiamo la testa Questo è un punto Un po' di merda Ammetto che è un punto Un po' di merda Però Ce lo facciamo andare bene Ancora per un attimo Adesso vediamo Altrimenti ci spostiamo Un pochino Ok Allora vediamo Prendiamo sto ferro Prendiamo sto ferro E poi torniamo su Allora Andiamo Andiamo su E vediamo Come craftare Anche il grinder Perché teoricamente Dovrebbe esserci Non sono sicuro Di questa cosa Ma vediamo Allora Grinder Ok questo Si crafta con Uh Facile da fare Incredibile Allora Vediamo subito Grinder Bam No Cosa mi manca? Diorite Ma io ne ho Diorite Ah devo trovare La Diorite Maggio ce n'era Allora Quindi potrei farlo Andiamo a riparare Un attimo il piccone Di nuovo Così siamo tranquilli Ehm Qui dovrebbe avermi Cucinato Le Ok Svuotiamoci Delle cose Che non ci interessano In questo momento Ok Io mi svuoto Un attimo di tutto Poi vedo Cosa riprendere No la palla Mi serve E la carbonella Mi serve Questo mi serve Ok Così dovremmo essere A posto Più o meno Questo non mi serve In questo momento Ok stavo dicendo Iniziamo subito a vedere La mod Anzi facciamo così Piazziamo gli alberi Qua Adesso non so se questi Messi in qua A 4 Crescano più grandi Però lasciamoli un attimo Là per vedere se funziona Intanto ne piazzo ancora un po' Qua In queste zone Perché Il legno Non avete idea Di quanto mi servirà Ehm Lì avanti Abbiamo un bel po' Di legno Però La scelta più Saggia È utilizzare Gli alberi Quelli della giungla Mi pare Perché con la cetta Della tinker Posso tirarli giù In modo brutale E mi danno un casino Di legna Allora Andiamo a vedere subito La prima mod Anzi vediamo se Con il grinder Riesco subito E poi vi faccio vedere Quella mod Allora Questa era diorite Andesite E diorite Non ne ho trovata Ma se io rompo L'andesite Mi da diorite No Mi darà andesite Giusto Vediamo Andesite Ovviamente La diorite Dove cacchio si trova È questa Diorite Ok Quindi questa Ci servirà Per fare il grinder Io mi ricordo che Si faceva con tipo Delle Allora Dovremmo anche averne già abbastanza Si faceva con tipo Delle Gear Di qualcosa Nelle altre mod Però Andiamo Andiamo a controllare subito Magari funziona in modo diverso Non lo so Allora Il grinder Prendiamo i bastoncini Prendiamo l'altra diorite Che avevamo Grinder Pam Perfetto E lo mettiamo Qui Ok Però servirà il bastoncino Giusto E andiamo a prendere il ferro E lo mettiamo dentro Vediamo Pam Però Non so come Far azionarlo Probabilmente ci servirà il bastoncino Dell'energia Della Neotech Ok 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 Quindi Lo vedremo Lo vedremo Questo Lo vedremo Iniziamo subito a far vedere Quell'altra cosa Che volevo far vedere Perché se no L'episodio dura 57 miliardi di anni E non ce la faremo mai Sicuramente non avremo neanche abbastanza legno Quindi Cerchiamo EZ storage Questa è la prima mod Che voglio farvi vedere Che secondo me è fantastica Allora Ci serve una chest Quindi andiamo Sta già tornando notte Madonna Che veloce Che cosa Madonna Perché si rompono tutte e due Ok No Non si rompono tutte e due Perfetto Andiamo qui EZ storage Pam Perfetto Abbiamo Lo storage core Andiamo a dormire anche Perché così Non ci attaccano i mob E siamo a posto Dai veloce 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 Ok Ci siamo Allora Abbiamo lo storage core Che noi andremo direttamente A mettere giù In realtà potevo craftare Già direttamente anche Almeno un'altra di quelli Così ero a posto E lo possiamo piazzare Se noi facciamo il soffitto A questa altezza Lo potrei piazzare Tipo Qui Va bene Non è il massimo Come potete vedere Qua dentro Noi potremmo mettere delle cose In questo momento no Perché ha 0 di 0 spazi Quindi Torniamo su velocemente Vediamo se abbiamo abbastanza legno Per poterlo fare Perché non Non credo Non credo Allora io qua ho Wool Però non ho altri tipi di legna Ehm Per fare lo storage block Mi servono 4 chest Ehm Non ce la farò Mai Mai No forse uno si Vediamo 3 chest Porca vacca Porca vacca 4 blocchi Non ho più Non ho più Potevo tenerlo E farmi una chest in più Cazzarola Allora andiamo a prendere un attimo Un po' di legna Al volo E vediamo di finire Almeno uno storage block Praticamente Questa mod Funziona in modo Modulare Ehm Non ci sono molti blocchi Come vi stavo dicendo L'altra volta Ce ne sono pochi Però ci permette Di Craftare una specie Di applied energistic Ovviamente è molto 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 più limitata Non ha niente Ehm Non ha praticamente niente a che vedere Con Con le funzionalità Che ha In totale L'applied Però per quanto riguarda Il fatto di Ehm Storeggiare Item Funziona In modo Praticamente identico Ehm Noi creiamo Delle specie di dischi Che non sono dei dischi Ma sono degli storage box Che sono quelli che stiamo andando a fare adesso Che ci permettono di Ehm Contenere Dei blocchi Questi blocchi Non sono limitati da Ehm Tipo Tipo O ID di oggetto Come potrebbe essere Nell'ME Ma Sono limitati In numero Quindi potrebbero essere 400 di uno Ehm 399 di uno E uno di un altro Ehm 400 diversi Non c'è assolutamente Nessun tipo di problema Allora Vai veloce Veloce Ah no Cibo Per quello non corre Perfetto Scusatemi raga se Ehm Ogni tanto cambio discorso O Ehm Mi perdo Però è da tanto che non faccio una serie di Minecraft da solo Registrata così Quindi Ehm E' un po' E' un po' strano Andiamo a fare l'ultima chest che ci serviva Perfetto E andiamo a fare uno storage box Ok Questo Come vi stavo dicendo Ci permette direttamente Di iniziare subito A Ehm Mantenere tutti i nostri oggetti All'interno Dello stesso blocco Diciamo Noi adesso andremo a fare il soffitto Fatto con Questo tipo di blocchi Allora Togliamo questo Un secondo Ah Una cosa Attenzione Questa mod Vedete questo blocco Lo storage core E' possibile piazzarlo Solo e solamente Se Ehm Non ci sono oggetti All'interno del Ehm All'interno di Questi Come si chiamano Degli storage Eh box Altrimenti Non si può rompere Guardate Io adesso inizio a riempirlo Guardate Vedete Gli oggetti Come salgono Cioè Gli slot Degli oggetti Come salgono Quelli utilizzati Ok Ce l'abbiamo fatta Vediamo Sì Perfetto Vedete 204 di 400 Io adesso questo blocco Non dovrei poterlo rompere Vabbè potevo romperlo a mano Non dovrei poterlo rompere Esatto Vedete Non posso romperlo Perché dentro ci sono oggetti Quindi E' una cosa Un po' Strana Inoltre Per Fare output e input Ci sono due blocchi Ma come vi stavo dicendo All'altra volta C'è un blocco bugato Che è quello dell'output Ok Questa è la prima mod Che volevo farvi vedere Della 1.8.9 Che io penso sia Veramente carina Ci permette di Storeggiare tutto insieme In modo parecchio Veloce Quindi Qui dovremmo fare Assolutamente delle scale Al volo Facciamo delle scale Ho della cobblestone Qua dentro No l'ho finita Quindi prendiamo questo Facciamo delle No delle scale No ci metterei troppo Quindi Direi anche che per questo video È tutto Lasciatemi un like Fatemi un commento Di cosa ne pensate Di questa mod Se conoscete qualche mod Che c'è all'interno Che può essere utile O come avviare Questo greenstone Che è quello della Della Aspetta End End Un attimo Non riesco a cambiare Ok Quello della Neotech Che è un'altra mod Di cui vorrei parlarvi Fatemi sapere Un po' di tutto Quindi Da Blink è tutto E ci vediamo Dopo in live E domani Con il video Da Tech in 3 Da Michele E magari qualche altro video Ciao Ciao